Mentre giunge al traguardo la gara del 4 di coppia allievi B1 maschile Si susseguono le premiazioni ma continuano e si susseguono anche i nostri giochi 135 anni e poi Ragazzi siamo con Arianna David Lorenzo Arianna, Davide e Lorenzo della Canottieri Cero Sport Cero Sport Bene, bene, bene Allora, avete studiato? Sì Chi è il più pronto? Lei Lei? Sei pronta? Sì Ma quanto hai studiato? Tanto Tanto Beh, è stato più impegnativo lo studio delle domande o la preparazione di questo festival? La preparazione del festival Bene, bene, bene Allora, direi che siamo pronti per iniziare a giocare Quante ne sai di canottaggio? Quindi lei è quella che ha studiato, voi invece come pensate di aiutarla? Cioè, ho studiato pure io ma di più lei Ok, dove avete studiato? Sul sito, sui social? Sì, sul sito Sul sito Bene, bene, bene Allora, vediamo qual è la domanda in serbo per voi Leggiamola assieme Quante medaglie sono state vinte in otto? Parliamo dell'otto della nazionale italiana Quante medaglie sono state vinte in otto alle Olimpiadi? E vi chiedo anche in che anno? In che anno? Potete consultarvi, potete ragionare tra di voi Parliamo della storia del canottaggio italiano Una storia che vede la federazione da 135 anni Organizzare eventi, equipaggi, gare E scrivere un po' la storia di questo sport Soprattutto in Italia I ragazzi stanno ragionando tra di loro Ma secondo me sono arrivati ad una conclusione Sono arrivati a... Chiedo sempre a lei? Tre medaglie di cui due, una oro e due argento Tre medaglie di cui una oro, una argento Vediamo se è così Due argento Sono state vinte tre medaglie Bronzo a Parigi nel 1924 Va bene, bronzo, argento alla fine non è importante Perché la domanda è quante medaglie sono state vinte in otto alle Olimpiadi e in che anno? Mi leggi tu la risposta? Sono state vinte tre medaglie Bronzo a Parigi 1924 Argento a Los Angeles 1932 Argento a Berlino 1936 Quindi la risposta è... Esatta! Bravi ragazzi Diciamo che la storia del canottaggio ormai la padroneggiate come se fosse un'enciclopedia Bravi Allora potete passare a ritirare i vostri premi Gare, ne fate oggi pomeriggio? No, alle 12 Voi sì, doppio? No, in 4 In 4 In 4, in 4, bene Tu invece? Ho fatto i 4 cadetti I 4 cadetti concluso poco fa, giusto? Bene, bene, bene Allora, grazie per aver giocato con noi Potete passare a ritirare il vostro premio E noi ci accingiamo ad un altro gruppo e a giocare con altri ragazzi Grazie a tutti Nostro tempo